buongiorno a tutti mi chiamo Francesco Trevisan e questa è la mia presentazione dell'applicazione online ISU che cos'è ISU? ISU è un sito web che permette di pubblicare al suo interno contenuti quali documenti o comunque a quello che ho visto io cercando nel sito e prendendoci un po' la mano principalmente riviste allora questo è l'aspetto della pagina principale di ISU della dashboard queste che vedete sono le riviste che al momento sono le più cliccate allora i contenuti pubblicati possono riguardare i temi più vari questi sono i temi trattati dal sito web ISU come vedete sono pubblicati documenti o comunque appunto come ho detto prima riviste riguardanti arte, viaggi, salute, tecnologia, scienza, religione, casa e giardinaggio insomma qualsiasi tipo di argomento è bene accetto come funziona ISU? allora per pubblicare dei contenuti su ISU è necessaria una registrazione la registrazione che ho effettuato io è gratuita gli altri due tipi di registrazione sono a pagamento sono una registrazione mensile e una registrazione annuale la registrazione gratuita offre la possibilità di upload dei contenuti però è limitata rispetto a quella mensile e annuale ovviamente allora questo come ho detto è l'aspetto della dashboard la pagina principale, qua ci sono i temi trattati queste sono le riviste più cliccate e questa è l'icona che permette di accedere al proprio profilo o comunque alle funzionalità dell'applicazione web questo qui è il mio profilo è vuoto al momento perché non ho ancora pubblicato nessun tipo di contenuto e non penso di farlo perché non ho una rivista da pubblicare al momento comunque ho provato a pubblicare un contenuto per vedere come funzionava è un documento, dopo vi farò vedere come funziona allora, torniamo alla pagina principale una volta fatto l'accesso alla pagina principale per pubblicare dei contenuti bisognerà andare sul comando upload questa è la finestra che si presenterà una volta premuto il comando upload e che permetterà di pubblicare dei contenuti sul sito web adesso proveremo a selezionare un file da pubblicare questo è il file che io ho selezionato è un file totalmente a caso non prestate attenzione a che cosa c'è scritto adesso lo sta caricando ci mette molto poco fortunatamente è un semplice documento ci aspettiamo un attimo ecco allora questo è il documento che io sto per caricare e pubblicare cosa che alla fine non farò ma è giusto per farvi vedere come funziona questo è il titolo del documento qua è possibile inserire una descrizione qui bisogna inserire la data in cui il documento o la pubblicazione è stata creata qua ci sono tutte le opzioni da selezionare nel caso si voglia delle opzioni specifiche per la propria pubblicazione qua è possibile selezionare la visibilità della propria rivista del proprio documento insomma del proprio upload e questo qui è il comando per pubblicare il proprio documento cosa che io al momento non farò allora l'applicazione è disponibile solamente in lingua inglese purtroppo però io spero che che per i tempi che corrono non sia un problema non è molto difficile da utilizzare l'unico l'unico scoglio è appunto il fatto che l'applicazione sia solo in lingua inglese quindi ci sono alcuni comandi che magari che magari richiedono una conoscenza specifica di certi termini però comunque per la pubblicazione iniziale di documenti non è assolutamente difficile vi ho già mostrato il mio profilo che è vuoto comunque andando selezionando l'icona del profilo sono presenti tutte tutte le modifiche o comunque tutte le opzioni del sito web qui ci sono qui c'è il settaggio dell'account qua ci sono le statistiche il profilo help and support quindi nel caso ci fosse qualche problema si può anche contattare l'autore del sito o comunque qualcuno che vi darà una mano come ho già detto con la registrazione gratuita la possibilità di upload è limitata però se c'è bisogno insomma di pubblicare una rivista per farsi conoscere all'inizio questo è un buon punto di partenza spero che il video sia stato chiaro è un po' lungo perché l'applicazione secondo me è stata abbastanza complicata da spiegare però spero sia stato chiaro buona serata a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!